Presentata a Teramo la nuova stagione di prosa 2022 a cura di ACS Abruzzo, circuito spettacolo. Cinque gli eventi in programma presso il Teatro Comunale con il primo appuntamento fissato per il 16 di marzo. Ora l'obiettivo è quello di far tornare le persone a vivere il teatro dopo quasi due anni assolutamente difficili che hanno segnato l'intero settore. Sì, l'ACS ha già iniziato alcune attività su altri spazi ma il teatro di Teramo era importante farlo ripartire con una stagione di prosa importante e quindi ci siamo impegnati nonostante una stagione che sarà breve a livello temporale perché parte da marzo per arrivare fino a maggio però era importante dare un segno di ripartenza forte anche su Teramo e quindi abbiamo costruito questa nuova stagione. Iniziamo il 16 marzo con lo spettacolo di Emma Dante, Misericordia, credo sia inutile illustrare l'importanza di un personaggio come Emma Dante ormai famoso in tutto il mondo così come Ascanio Celestini, Lombardi Tiezzi, insomma un programma che credo possa essere molto interessante, spero sia molto interessante. Facciamo l'invito a partecipare perché ricordiamo il teatro è un posto sicuro. Il teatro è un posto sicurissimo, sappiamo tutti che non c'è stato fino a oggi facendo tutti quanti gli scongiuri nessun caso di contagio e poi soprattutto è un luogo dove tutti abbiamo bisogno di ritrovarci e possibilmente allontanare le paure e tornare a ragionare sulle problematiche abbastanza serie e importanti che la nostra contemporaneità ci sta mettendo davanti. ACS ha anche presentato in conferenza il progetto Comunità dal vivo che si realizza nell'unione delle realtà associative ed istituzionali che operano fattivamente sul territorio per costruire un momento di confronto e crescita per la città confermando nel teatro non più solo una struttura architettonica ma l'ideale luogo di incontro e confronto per una pianificazione condivisa e per la rinascita della collettività attraverso i linguaggi delle arti e dello spettacolo dal vivo al fine di rinsaldare l'unità e la coesione dei gruppi sociali con particolare attenzione al terzo settore e alle nuove generazioni di pubblico.